Oipielco Prastuti Aakha ohoi, drisho ohoi Drishti farak ho non satcha Aakha ohi, drisya ohi Drishti farak ho non satcha Aakash ohi, bharati ohi Bato farak ho non satcha Aakha ohi, drose whene Ohi, blure at tu Aakha ohi, dris poreati ohi Aakha ohi, blure at tu C'è lì aàgà, c'è lì a pà nì, ma nì sà kò, zìnda gà nì Ghan bò chò, ghan kattin, pishwara kò srishti Ghan bò chò, ghan kattin, pishwara kò srishti Ma nì sà kà, bègla bèglai, ghan chahirne drishhti Drishhti, 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 drishhti Drishhti, 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 nalımhthi, dhih rah ni, Dihek ojmt questo è il ghetto, questa è il ghetto. Il ghetto d'acquesta a proprio? Per quanto riguarda il nostro corso? Oh God, come andre i rispondano. Non si fu che ti concentra, non mi chavo da sveglia! Ma sia del tutto! Non c'è proprio il sodio! Ma come questo? Non lo so, non lo so. Non lo so, non lo so. Meri? Quali il vostro lavoro, non lo so? Non lo so! Sulo, ma è il systems anzi mi hai il rischio hai su conti hai tu cosa tu cosa hai hai mi hai i di metà più specifica quando sa che io i buoni sogni amor un cassetto un bel come ti bro casano Nella piccola No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si, i forti a volerci, i forti a volerci, i forti in comandament. Nessalammo, che mi fai capito? Nessalammo, che mi fai capito? Il suo lavoro è un'escalante. Sì, sòure, se fissi a fare un'escalante, se non si fissi a fare un'escalante. Come facciam a me fai una questione. Come facciam come? Come facciam a me conoscere. Come facciam a me conoscere. Come facciam a me conoscere. Come facciam. I'm not going to star di tutto. Come facciam a me conoscere. Ehi! Adesso ti metti, ma? Adesso ti metti? Cosa ti metti? Mi per te metti? Cosa? Ok, ma. Ma io ho capito. Adesso ti metti. Adesso, Adesso, Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Siamo tutti i nostri amici. . . . . . . . . . ma lei oggi si 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 Questo è quello che mi ha avuto un po' di rispondere a tutti i rispondri. Ma ora dovremo fare un divorzio, dovremo fare un rispondimento. Perché? Che ho fatto? non è vero non è vero non è vero non è vero a 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